Dai, almeno solo per queste tre settimane di zona rossa, rifacciamo il decreto quotidiano, solo per questo... E dallo Francesco, dai, facciamo, va a piacere, dai, ma perché non dovremmo rifarlo, dai? No, noi non l'abbiamo già fatto, rifarlo non ha senso, non lo so, secondo me è sbagliato. E babbo, però dai, gli amici che mi scrivono dicono, rifatelo te Francesco, i bambini, rifatelo, rifatelo, solo per queste tre settimane di... Dai, a fare il decreto quotidiano, dai Luigia, dai Antonio, dai. Dai, Antonio, dai, dai. Lungo i fiumi. Ehi, maddi, maddi, facciamo il decreto quotidiano, dai. Sto studiando? Dai, dai, dai. Sto parlando, no, sto studiando. Dai. Frastering Dad! Dai, Antonio, dai, giriamo il decreto... Sì, vado a Fortnite! Va, dobbiamo far veloce, però. Sì, 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 dai, 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 dai. Grazie. 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 Grazie.